Parla tifoso dell'Azzurra! È con grande emozione che vi portiamo una notizia che può commuovere il cuore dei napoletani. Premi già il pulsante Mi piace se ami il Napoli con il cuore. Forza Napoli! E se Calidu Coulibaly, il nostro caro capitano senegalese, tornasse a vestire la maglia azzurra, questa possibilità ha affascinato alcuni fan e lasciato perplessi altri. Immergiamoci in questa speculazione e discutiamo i dettagli. Secondo i media britannici, Coulibaly si sarebbe offerto, insieme a Christian Pulisic, in una trattativa che coinvolgesse Victor Ozyman. Per approfondire questo scenario, la redazione di Radio Marte ha parlato con Fulvio Marrucco, avvocato che ha già assistito Coulibaly in questioni illegali. Marrucco ha condiviso la sua opinione, dicendo che Coulibaly potrebbe tornare o sarebbe solo fantascienza. Ha sottolineato che la decisione dipenderà dal tipo di mercato che il Chelsea intende fare a Londra. L'avvocato ritiene però improbabile il ritorno del difensore al Napoli, visto che il presidente dell'Aurentis non è mai stato favorevole all'erimonte. Tifoso degli azzurri, come ti sentiresti se Coulibaly tornasse al Napoli? Sarebbe una gioia vederti difendere i nostri colori, o pensi sia arrivato il momento di voltare pagina? Sebbene sia stata sollevata la possibilità che Coulibaly torni al Napoli, per ora dovremmo prenderla come una speculazione. Il calciomercato è ricco di sorprese e solo il tempo dirà il destino del nostro caro capitano. Continueremo a monitorare attentamente le notizie e a fornirvi aggiornamenti. E tu, tifoso azzurro, pensi che sarebbe vantaggioso riavere Coulibaly in squadra? O preferisci guardare al futuro e cercare nuove opzioni? Condividi la tua opinione nei commenti e tifiamo insieme per il nostro amato Napoli. Forza Napoli sempre!